Invece vuol dire che qualche cosa possiamo dare a noi al territorio nel senso dello sviluppo positivo ma qualcosa il territorio ci dà. Quindi è chiaro che noi reagiamo al territorio. Se io mi trovo in un territorio degradato come può essere un cacchio di periferia di Roma è chiaro che io mi organizzo e divento un delinquente perché mi devo difendere da altri delinquenti. Quindi ognuno dipende dai comportamenti. Se i nostri occhi non vedono bello non saremo mai belli dentro. Cioè noi dobbiamo tendere... ...di cultura organica alla natura, di portarla pure a Roma. Pensa come sarebbe bello la navigabilità del Tevere, renderlo navigabile, bonificarlo. Se tu ti butti nel Tevere e prendi la salmonella. Nei fiumi normalmente l'acqua scorre, non ci dovrebbe essere niente. Di grave, no? Perché scorre naturalmente. E perché a Roma ce la salmonella? Perché ci stanno i topi, ci scarichiamo tutto nel Tevere. La cloaca massima, la famosa cloaca massima. E poi c'è la ragione. Ma cominciano ad assalire anche l'uomo. E mangiano sicuramente i piccoli.